Radio Pirata, la radio nella radio. Io sono Gabriele, come sempre al solito con me nella prima parte si parla di radio, lo faremo quest'oggi con alcune notizie, parecchie notizie che riguardano soprattutto la storia della radio, lo facciamo anche molto volentieri perché in questa settimana cade anche il nostro quarto anniversario, esattamente il 6 marzo 2017 nasceva appunto Radio Pirata, la radio nella radio. Oggi ci occuperemo dei 90 anni della società svizzera di radiodiffusione, vi parlerò anche di Guglielmo Marconi perché il suo nome era presente sulla famosa sonda Providence che tutti abbiamo ammirato quando ha toccato e ha mandato le prime immagini da Marte. Il mese di marzo, come dicevo, nella storia della radio è molto importante, ci saranno alcune tappe che andrò a ripercorrere e poi arriverò anche all'attualità visto che in questi giorni è stata presentata la nuova piattaforma RaiPlay Sound. Come ricordavo nel sommario, questa settimana si ricorda l'anniversario della società svizzera di radiodiffusione, la SSR, ovvero la responsabile del servizio pubblico e radiofonico in Svizzera. Ne dà notizia Italradio, giustamente perché quando si parla di realtà italofone, Italradio è sicuramente sempre in primo piano, soprattutto anche con questi 90 anni dalla fondazione di questo servizio che sta cambiando, tanto da aver programmato addirittura di vedere la rete erziana completamente sostituita dal DAB Plus e dai servizi online, mentre dal 2025 si dividerà al 50% tra canali tradizionali e internet. In italiano cominciò in onde lunghe, subito dopo abbandonate, a favore invece delle onde medie che sono sicuramente indimenticabili. La società svizzera di radiodiffusione, la SSR, è un'organizzazione mantello di tutte le emittenti radiofoniche regionali, cui il Consiglio federale, ovvero il governo elvetico, rilascia una concessione 90 anni fa esclusiva per trasmettere programmi radiofonici e televisivi in Svizzera. Al 1931 risalgono anche le attivazioni dei primi trasmettitori in onde medie, Sotens ad esempio per i programmi in lingua francese nel marzo del 31 e Beromünster per i programmi in lingua tedesca nel maggio del 1931. Il terzo trasmettitore radiofonico, quello famoso, almeno per noi, di Radio Monteceneri, iniziò la sua attività nell'ottobre del 1933 coprendo anche la lingua italiana. Va ricordato che nel 1933 nella Svizzera italiana c'erano poco più di 3.300 apparecchi radio. Inizialmente la stazione di Monteceneri, oggi monumento nazionale non più funzionante ma museo della radio, e questo voglio sottolinearlo alla faccia di chi distrugge monumenti, vanno chiamati proprio così, della radiofonia. In questo caso ne hanno creato un bellissimo museo. Questo sito trasmetteva sull'onda provvisoria di 1.050 metri, ovvero 285 kHz in onde lunghe, ma essendo stati predisposti pochissimi ricevitori in Ticino, per le onde lunghe appunto dal 15 gennaio del 1934 si passò sull'onda dei 257,1 metri, ovvero la famosa frequenza dei 1.167 kHz, facendo salire subito gli abbonati a 5.300. La stazione trasmetteva all'inizio con una potenza di 15 kW, poi subito aumentati a 25, visto che i risultati di ricezione al periodo non erano molto soddisfacenti. Negli anni 70 arrivarono addirittura ad impiegare 300 kW. Dal 1935 vengono avviate le trasmissioni anche in onde corte. Vi segnalo, come segnala del resto anche Italradio, un interessante sito, lanostrastoria.ch, dove è presente appunto un dossier storico, un documentario, che racconta com'è andata questa importantissima storia della SSR. E sono sempre le pagine di Italradio a portarci buone notizie questa settimana, perché la sonda americana Providence, sbarcata giovedì 18 febbraio 2021 su Marte alla ricerca di antiche forme di vita, ha portato sul pianeta rosso anche il nome di Guglielmo Marconi, in una parte della memoria del computer del rover Perseverance, associato allo Science Park Guglielmo Marconi di Santa Marinella. Come ha detto alla Radio Vaticana, il professor Livio Spinelli, delegato per il comune di Santa Marinella al Museo Marconi della Cittadina Tirrenica, lo studio delle microonde avviato da Marconi nell'ultimo scorcio della sua vita si è rilevato decisivo anche per le esplorazioni spaziali. Ma è questa un po' la novità? Marconi fece a suo tempo degli esperimenti radio dalla torre Eiffel su Marte, per trasmettere e ricevere le onde, e addirittura speravano di avere un collegamento con qualcuno che potesse rispondere ai segnali inviati dalla Terra. L'affascinante teoria è suffragata dall'idea che fin dall'inizio Marconi si era fatto che, se vi fossero intelligenze in altri pianeti, sarebbe possibile ricevere e comunicare con loro attraverso le onde radio. E questo ci riporta anche con la memoria di un film molto bello che è Contact, se non l'avete visto guardatelo. Tuttavia, come ricordava nel 1920 un articolo del New York Times, la torre Eiffel escluse di aver ricevuto dei segnali da altri mondi, che invece Marconi aveva allora ritenuto possibile. La radioastronomia era infatti ancora tutta da scoprire. La principessa Elettra Marconi, in questa occasione, la figlia dell'inventore, ha inviato alla NASA un saluto di ringraziamento, ricordando come il capitano Neil Armstrong disse a lei e a sua madre che senza la radio di Guglielmo Marconi non saremmo mai andati sulla Luna. Vedi dunque che il Guglielmo Marconi ce lo ritroviamo ovunque quando si parla di radio? E come dicevo all'inizio, il mese di marzo, nella storia della radio, sembra essere un mese particolarmente interessante. Innanzitutto, su alcune date importanti di Guglielmo Marconi che abbiamo appena menzionato, il 5 marzo, ad esempio, del 1896, presenta la prima richiesta provvisoria di brevetto a Londra. Il 30 marzo del 1896 viene invece ricevuto da Pris, alla direzione delle poste, con la prima dimostrazione agli esperti. 27 marzo 1899, primi messaggi oltre la manica tra Vimereux e South Florida. Il collegamento, in quell'occasione, coprì la distanza di 32 miglia. Il 17 marzo 1914, Marconi vince una causa civile a New York sulla priorità della sua invenzione, ed è quindi definito lui, ufficialmente, l'inventore del wireless. 26 marzo 1930, i segnali trasmessi da Marconi, dallo yacht Elettra, ancorato a Genova, accendono le famose lampade del municipio di Sydney. Il segnale percorrerà in quell'occasione la distanza di 16.500 chilometri. Ma nel marzo di tanti anni fa, ad esempio nel 1928, ci fu la prima radiocronaca, il 25 marzo per essere precisi. La partita di calcio si disputava tra Italia e Ungheria, risultato 4 a 3, e subito dopo vengono anche inaugurate le stazioni radiofoniche di Genova e Bolzano. Anche Radio Luxemburg nasce nel mese di marzo, ed è esattamente il 15 marzo 1933, radio che poi diventerà un faro nella notte, perché così proprio bisogna ricordarla, anche per le persone che al tempo erano appassionate di musica, ma soprattutto per quelle persone che grazie a Radio Luxemburg cercavano di carpire i segreti e di come si poteva fare la radio. Nel marzo del 1944 prendeva forma anche Caterina. Vi ho parlato di questa radio in una puntata in modo molto dettagliato, l'apparecchio radio della speranza, costruita da un pugno di uomini italiani internati nel campo di concentramento nazista di San Bostel. La radio nacque quasi dal nulla, il primo elemento fu una valvola fatto entrare furtivamente nel campo nascosta in una borraccia. Da quel semplice ma essenziale elemento prese vita Caterina attorno alla valvola con un'infinita pazienza e dopo mesi di esperimenti e tanto materiale di recupero fecero appunto funzionare quell'apparecchio per ascoltare il mondo fuori da quel posto orribile. La domenica di Pasqua, quindi siamo in un marzo molto importante, il marzo del 1964, esattamente il 28 marzo, dalla nave ancorata a largo delle coste irlandesi cominciarono le trasmissioni di cosa? Di Radio Caroline. Pare che gli speaker, sopraffatti dall'emozione, non se la sentirono di andare in diretta e registrarono quel famoso annuncio di inizio trasmissioni che diceva semplicemente This is Radio Caroline on 199, your all day music station. A partire dal mezzogiorno del 28 marzo 1964, Simon D. e Christopher Moore iniziavano le trasmissioni di quella che fu da lì in avanti fino ai giorni nostri una radio che davvero ha fatto storia. Con questo annuncio pre-registrato, all'inizio con la prima canzone dei Rolling Stone che era Not Fade Away e poi tante canzoni che tante altre radio non suonavano. 1970, il 25 marzo, è una data che segna un punto di non ritorno nella storia della comunicazione italiana. C'è infatti questo segnale radiofonico di Radio Libera Partinico che rompe il monopolio di Stato sulle trasmissioni via Etere e questa voce da Partinico serviva per illustrare i problemi dei terremotati. Due collaboratori di Danilo Dolci, Franco Alasia e Pino Lombardo si erano chiusi nei locali di quello che era il centro, studi ed iniziative e hanno appunto realizzato questa radio di notevole potenza con la quale hanno trasmesso notizie e documentari fonici sulle condizioni dei terremotati. Questa storica radio di Partinico ha trasmesso per sole 27 ore. Infatti il 27 marzo del 70 l'avventura si è conclusa in pochi minuti con un'azione a sorpresa di polizia e carabinieri. Sempre in Italia, ma un po' più tardi, nel 1975, in Italia nasce una radio che a me sinceramente piace accumulare a Radio Caroline proprio perché queste due radio hanno avuto un senso di libertà e di creare un mito perché il 10 marzo 1975 Angelo Borra fonda Radio Milano International che è destinata a diventare la prima grande emittente privata italiana. Il mito di questa radio viaggia ancora oggi sul web all'indirizzo radiomilanointernational.net con il groove e il suono di un tempo quindi c'è un canale proprio dedicato alla storica Radio Milano International affiancato anche da un canale più moderno ma con lo stesso spirito affascinante di Black e R&B ma ovviamente con uno sguardo rivolto al futuro e c'è anche una diffusione in FM da un po' di mesi a questa parte che copre Milano, Monza, Como, Novara, Bergamo, Pavia, Verbagna e in Dabba anche in Sicilia e Calabria. Ecco, va ricordato che Radio Milano International è la radio che ha iniziato tutto cioè c'è poco da dire, c'è poco da girarci intorno se non ci fossero stati i fratelli Borra probabilmente le radio sarebbero nate un po' dopo ma la caparbietà e la passione che hanno dimostrato nel voler far nascere Radio Milano International anche battendosi legalmente in una situazione molto contorta ha fatto sì che veramente questa radio sia diventata un mito negli anni successivi sempre tra le radio private nel 1983 le famose radio libere il 16 marzo nasce un'altra radio storica per un determinato genere musicale ovvero Rete Radio Azzurra il mito della musica afro alla radio la famosa radio che si ascoltava soprattutto qui nel nord Italia e che ci faceva fare le cassettine della musica che al tempo si ballava in discoteca Rete Radio Azzurra è stata infatti la prima radio afro in Italia che ha proposto questo genere musicale totalmente nuovo al tempo l'Afro Music è nata a Montichiari in provincia di Brescia per volontà di Fulvio Di Raddo e in un marzo molto più recente esattamente quello del 2017 invece il 6 marzo nascevamo noi di Radio Pirata la radio nella radio e siamo ancora qui a raccontarvi le cose che ci stanno a cuore insomma io mi occupo un po' di radio perché sono un appassionato di radio appunto ma tutta la ciurma fa del suo meglio per tenervi compagnia con Luca Topos in Fabula con Ellie the Worst i pensieri di Bastian Contrario Giochino Stallone che invece è arrivato da qualche anno con la rubrica in contatto con il mondo e il cameo di Anna che invece ci propone la musica colta senza presentazione ecco quest'anno non abbiamo fatto cose particolari per il nostro quarto anniversario semplicemente ci siamo vi raccontiamo ancora le nostre cose preferite sperando di farvi buona compagnia e arriviamo dopo tanta storia anche all'attualità visto che in questi giorni è stata presentata Rai Play Sound si tratta di una nuova piattaforma Rai interamente dedicata all'ascolto digitale con le radio i programmi on demand e i podcast originali organizzati per generi e argomenti notizia che è apparsa anche su fm-world.it dove viene riportato un estratto del comunicato stampa della Rai il direttore di Rai Radio Roberto Sergio intervenendo alla conferenza senza stampa ha spiegato la natura della nuova piattaforma un'altra iniziativa che completa la rivoluzione digitale che hanno avviato già tre anni fa Rai Play Sound sarà infatti una piattaforma integrata per l'ascolto digitale con accesso per genere per argomento per contenuto al suo interno ci saranno podcast originali le dirette delle 12 radio Rai e i programmi on demand non si tratta dunque di un semplice aggiornamento di Rai Play Radio l'app che è disponibile da alcuni anni che verrà chiusa quando partirà questa nuova app e neppure di un catalogo di contenuti audio ma di un nuovo hub dedicato all'ascolto digitale a 360 gradi con Rai Play Sound si aggiunge così un nuovo tassello al percorso che ha portato una struttura analogica e poco moderna come era Rai Radio pochi anni fa fino a diventare il fiore all'occhiello delle grandi produzioni digitali Rai un cambio di passo che è stato possibile grazie alla virata digitale che ha portato a riprogrammare tutti i flussi di lavoro partendo dal rifacimento degli studi oggi dotati delle più avanzate tecnologie e capaci ad esempio di ospitare show multimediali in 4k con la nascita di Rai Play Sound l'obiettivo per la Rai sembra essere molto chiaro essere leader nel settore del podcast in Italia la vera sfida ha spiegato Roberto Sergio è fuori fuori dalla radio fuori dai confronti fra editori radio fuori dal mondo dell'on air non a caso ragionano oggi sui dati d'ascolto dell'universo TER che ha visto in crescita in termini molto interessanti lo share appunto sull'argomento podcast oggi quindi il mondo è cambiato il competitor non sono più le radio come Radio DJ o RTL i competitor sono Spotify Audible YouTube i talent devono confrontarsi non tanto con gli speaker delle altre radio ma con i podcast su Spotify o con quello che attualmente è il podcast numero uno nella classifica di Spotify le bellissime lezioni di storia di Alessandro Barbero ad esempio peraltro l'ottovolto della Rai è allora lì che giocano la partita avendo competenze risorse contenuti contenuti originali verticali interessanti facile a dirsi un po' meno a farsi ecco perché si sta parlando soprattutto dei podcast una modalità di ascolto on demand che in Italia è stata finora sottovalutata Rai Play Sound sarà l'hab dei podcast a cominciare da quelli della radio ma proseguendo per quelli che potranno nascere da esperienze e talent televisivi quindi decisamente un'apertura mentale interessante nei confronti di una nuova radio che si sta trasformando e che stiamo vivendo tra l'altro sarà anche argomento della prossima settimana perché vi parlerò di un libro interessantissimo di Ubaldo Ferrini la radio libera la radio prigioniera dove c'è sì un momento dedicato ai ricordi a come eravamo a cosa abbiamo fatto ma anche uno spunto di riflessione momenti di riflessione che vanno a toccare questo tasto ahimè dolente nel senso che la radio che c'era una volta non c'è più e forse è bene che sia così la radio si sta trasformando la radio si mette in gioco e questo voler fare qualcosa di nuovo da parte del direttore Roberto Sergio già l'avevo sottolineato la settimana scorsa sempre in occasione di questa visione del podcast come veramente uno sviluppo della radio dove è possibile sì riascoltare programmi radiofonici ma anche crearne di nuovi e in qualche modo collegarli alla radio gemellarli alla radio quindi una radio nuova dinamica tutta da fare e ovviamente tutta da scoprire grazie a tutti grazie a tutti